Ci sono differenze fondamentali fra un atleta onnivoro e uno che è solo vegetariano? Bene, vediamola assieme oggi. Bentornati su Health Me Food. Ritorniamo a parlare di alimentazione sportiva. Oggi mi volevo in particolare concentrare su alcune differenze, se ci sono, che un atleta vegetariano può, comparandolo magari a una persona che invece ha un'alimentazione completamente onnivora, avere. Ed anche capire se effettivamente possiamo trovare dei cali, come ad esempio dei cali di prestazione, solo perché non ci sono fonti di proteine animali. Prima di cominciare vi volevo ricordare che mi trovate anche su tutti i social networks. Io sono presente su Facebook, su Instagram e su Twitter. E su questi social potete condividere questi contenuti, se vi piacciono, per favore fatelo, per farmi crescere e per portare il mio messaggio salutista a più persone possibili. Bene, dopo questa premessa, pubblicità occulta, se poi avete dei dubbi anche sulla dieta vegetariana, vi ricordo che ho già realizzato un video in merito e vi lascerò il link qui sotto da qualche parte o nello schermo qui intorno a me. Partiamo subito dalla domanda principale. Può un atleta trovare benefici oppure controinducazioni nel seguire una dieta che sia completamente vegetariana o vegana? Molte persone pensano effettivamente che chiunque non segua una dieta completa, come la intendiamo noi onnivora, possa essere limitato nel raggiungimento di alcuni traguardi sportivi, soprattutto in quelle attività che ad esempio richiedono l'utilizzo della forza muscolare intensa o prolungata, come per esempio possono essere il bodybuilding o anche uno sport come il nuoto. Soprattutto nel caso di sport che necessitano forza esplosiva, come nel sollevamento pesi, si crea sempre un nesso fra il consumo di carne o delle proteine animali in generale e per cui l'introduzione di proteine e una maggiore semplicità con cui si possa raggiungere la crescita muscolare. Ma sono concetti che non hanno nessun risconto scientifico. Anzi, ci sono un paio di studi effettuati nel 1937 dalla ADA in Canada e poi nel 2000 dall'American Sport College of Medicine in uno studio coniugato e congiunto con la ADA che confermano che il consumo di alimenti di origine animale non è essenziale per raggiungere delle performance ottimali. A questo punto resterebbe da capire se ci possono invece essere altri tipi di limitazioni oltre alla performance o magari alcuni benefici in più. Una cosa è certa, se eseguiti da un esperto nutrizionista o da un dietologo, una dieta totalmente vegana o vegetariana può tranquillamente provvedere ad un rapporto adeguato a tutte le attività, sia quelle di tutti i giorni che in quelle di un ambito sportivo e di tutti i macro e micronutrienti. Per cui una cosa è sicura, non ci sono limitazioni di qualsiasi genere purché il regime alimentare sia ovviamente ben pianificato sia con alimenti che vengono variati il più possibile che anche con una giusta supplementazione ove questa sia necessaria. In linea generale un atleta vegetariano ha una tendenza ad avere una massa grassa minore rispetto ad un atleta onnivoro e questo viene ovviamente da una mancanza di tutta una serie di alimenti come ad esempio carne, pesce, molluschi o latte derivati per i vegani che oltre ad essere densamente più calorici hanno anche un apporto maggiore di una certa quantità di grassi. Un ulteriore punto da tenere in considerazione è che l'atleta vegetariano sempre se ha una buona ovviamente pianificazione non ha nessun problema a raggiungere i suoi valori ottimali di vitamine e di sali minerali e anche soprattutto di fibra alimentare. Inoltre anche la soia di idratazione sarà molto più semplice e facile da raggiungere ovviamente grazie ai liquidi che vengono appunto provveduti tramite l'utilizzo di questi alimenti di origine vegetale. Considerazione da includere è anche che non essendoci nessun consumo di carne rossa ed per cui non c'è un eccessivo uso di grassi l'atleta vegetariano ha anche meno possibilità nel lungo termine ovviamente di sviluppare sia malattie croniche come ad esempio il diabete di tipo 2 che è l'insorgere di tumori o di malattie del sistema cardiocircolatorio. È opportuno confermare che se voi siete degli onnivori ma avete una dieta bilanciata anche voi non avrete nessun incremento sostanziale nell'incidenza dello sviluppo di tali patologie purché ovviamente la vostra dieta includa molti alimenti di origine vegetali mangiati possibilmente a crudo o anche alimenti ricchi di fibre alimentari sia solubile che insolubile. Ci sono anche un altro paio di studi che purtroppo sono a pagamento ma vi lascio i link qui sotto nel caso in cui siete talmente interessati all'argomento da comprare e leggere fatti in Danimarca nel 1991 e successivamente in Germania nel 1994 che hanno dimostrato che non ci sono assolutamente differenze in termini di performance tra gli atleti vegetariani e quelli non vegetariani se i parametri generali dei macronutrienti per cui carboidrati, proteine e grassi venivano mantenuti costanti. L'unico punto che non è stato ancora sciolto e per il quale non ci sono ovviamente studi scientifici definitivi è se una dieta vegetariana o vegana possano addirittura migliorare le performance sportive rispetto a una dieta onnivora. Ma secondo me a rigore di logica e qui sto ponendo solo alcuni miei pensieri personali per cui niente che provenga dalla letteratura scientifica al nostro organismo non interessa da dove provengano gli nutrienti purché riceva ovviamente quelli necessari sia alla vita o come in questo caso alla performance sportiva per cui se l'atleta ha bisogno di un grammo e mezzo di proteine per chilogrammo di peso corporeo se questi vengono da una bistecca di manzo, da legumi o da cereali non dovrebbe fare nessuna differenza. Sicuramente un atleta vegetariano avrà vita più semplice ad aggiungere il fabbisogno proteico giornaliero potendo tingere anche ad alimenti come ad esempio il latte, le uova, i formaggi o lo yogurt ma ciò nonostante legumi, tofu, semi di zucca, pasta, semi misti, noci o patati sono comunque delle ottime fonti proteiche anche gli atleti che cercano crescita muscolare possono tranquillamente raggiungere i propri obiettivi perché non sono solo le proteine che aiutano a raggiungere la crescita della massa muscolare ma anche il valore totale di calorie introdotte gioca un ruolo fondamentale in questo. alcuni esempi di complementazione proteica per gli atleti possono essere questi che vi do ma possono anche essere usati e consumati tranquillamente da un vegetariano che non sia atleta perché comunque è sempre roba buona da mangiare possiamo fare ad esempio un wrap con dei falafel oppure una zuppa dei legumi con del pane integrale oppure del tofu abbinato al riso ovviamente sempre tutti questi piatti accompagnati da abbondanti verdure crude un limite potrebbe essere la carenza di creatina che si trova prevalentemente in alimenti di tipo animale e per cui si dovrebbe tendere a integrarla con degli integratori di creatina un vantaggio però che si risconta è che il sistema muscolare dei vegetariani tende a essere maggiormente caricabile da scorte di creatina in quanto il muscolo già in partenza è più scarico rispetto a un atleta che invece è un onnivoro per cui mangia della carne un altro limite invece può essere trovato nella carenza di alcune sostanze e mi riferisco in prevalenza ad alcune come il ferro, lo zinco, la vitamina D, la vitamina B12 grassi della serie omega 3 questo accade se non si sostituiscono le fonti di questi alimenti che sostanzialmente fanno parte della dieta onnivora con altri alimenti alternativi che ci aiutano e possono introdurre queste deficienze per la B12 un'ottima alternativa sono le alghe come ad esempio la spirulina o lo arganori mangiatevi il sushi, guardate il video sul sushi che ho fatto qualche settimana fa e capirete che potete farlo per la mancanza di ferro basterebbe integrare ai nostri piatti di legumi una fonte di vitamina C come possono essere ad esempio un piatto di broccoli, dei pomodori oppure anche un poco di succo di limone spremuto nell'acqua che bevete durante il vostro pasto per gli omega 3 possiamo affidarci ai semi di zucca o a quelli di lino per evitare di essere in carenza di zinco basta puntare ad esempio su noci miste uova se non siamo vegani o cereali integrali e semi oleosi bene se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un pollice in su mandatemi anche un'email ad infochiocciola healthmefood.com oppure lasciatemi anche un commento qui sotto se volete chiarimenti su questo argomento o se avete altre domande seguite anche solo gli audio podcast di questi contenuti che potete trovare su iTunes, su Spreaker e su Spotify mi raccomando iscrivetevi anche al canale e cliccate sulla campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo visitate anche il mio sito internet che come sempre è www.helpmefood.com ebbene anche per oggi vi lascio andare per cui mi è rimasta solo la cosa più importante da dirvi che è eat well, live well and smile e ci vediamo alla prossima volta ciao ciao ciao